brani dal libro battesimo di spirito e liberazione del pastore danny smith prefazione la premessa a questo libro è presto detta coloro che saranno pronti ad incontrare gesù avranno ottenuto la vittoria su ogni influsso o d'oppressione di satana nelle loro vite e questo a livello spirituale emozionale e fisico essi saranno al momento del ritorno di gesù esattamente come lui satana non avrà più alcuna influenza su di loro infatti scrive l'apostolo giovanni carissimi ora siamo figli di dio ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo sappiamo però che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è prima giovanni capitolo 3 versetto 2 il mio obiettivo nello scrivere questo libro è presentare un approccio equilibrato a tale liberazione siamo stati avvertiti che la maggioranza dei cristiani negli ultimi tempi avventi l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza seconda timotio capitolo 3 versetto 5 comincerò presentando l'importanza delle leggi di dio sulla salute per poter ottenere una buona forma fisica molti lettori di questo libro avranno in qualche modo familiarità con tali leggi la mia preghiera è che tutti coloro che leggeranno della loro importanza vorranno per grazia di dio rinnovare il proprio impegno a vivere la vita in armonia con esse verrà anche presentato l'insegnamento biblico di ciò che molti chiamano la guarigione della fede si tratta della fiducia nella potenza divina a cui si riferisce ellen white nella seguente citazione l'aria pura la luce del sole l'astinenza il riposo l'esercizio fisico una dieta adeguata l'uso dell'acqua e la fiducia nella potenza divina sono i veri rimedi sulle orme del gran medico pagina 79 il ministero in favore dei malati non deve limitarsi ad insegnare l'importanza delle leggi sulla salute preposte da dio per ottenere una buona forma fisica occorre anche pregare per loro con fede credendo che dio li guarirà il lavoro del vero medico missionario è soprattutto un'opera spirituale che include la preghiera e l'imposizione delle mani ellen white councils on earth pagina 540 un altro aspetto vitale relativo alla salute che viene trattato è l'importanza della liberazione dalle oppressioni emozionali di satana nella nostra vita quali depressione ansie paure rabbia incontrollata spirito critico eccetera verranno esposti i principi per ottenere questa liberazione emozionale ogni insegnamento biblico contenuto nel presente libro è stato da me sperimentato ho visto nella vita di altri che hanno messo in pratica i principi della liberazione presentati nei vari capitoli che seguono conosco e credo che l'insegnamento della liberazione di cui leggerai è vero perché vi sono tre testimoni della sua veridicità la bibbia lo spirito di profezia cioè gli scritti di ellen white e l'esperienza la liberazione di israele dalla schiavitù in egitto fu un tipo della liberazione che il popolo del rimanente di dio sperimenterà al tempo della seconda venuta di gesù ci viene detto che non vi fu alcuno fra le sue tribù che vacillasse salmo 105 37 la versione inglese dice che non c'era fra il popolo alcuna persona debole quando gesù verrà non ci sarà neanche una persona debole nel rimanente di dio perché perché essi avranno imparato e praticato i principi della liberazione dalle oppressioni di satana nella loro vita spiritualmente emozionalmente e fisicamente sembra impossibile se si osserva la condizione della chiesa di laudicea oggigiorno ricorda però che coloro che saranno pronti ad incontrare gesù avranno accolto l'appello ad uscire dalla condizione di laudicesi ricevendo il battesimo dello spirito santo lo puoi leggere in apocalisse al capitolo 3 i versetti da 18 a 21 essi avranno sperimentato un genuino potente risveglio e la relativa riforma ricevendo una nuova effusione di spirito ogni giorno la loro fede si sarà sviluppata al punto che essi saranno in grado di restare in piedi di fronte a qualunque cosa satana potrà suscitare contro di loro saranno completamente vittoriosi in ogni area della propria vita a livello spirituale emozionale e fisico non ho usato la parola perfezione o perfezionismo in questo libro ci sono stati molti fraintendimenti nel corso dei secoli a proposito del significato di questi termini secondo la bibbia avremo la nostra natura peccaminosa fino al ritorno di gesù vedi prima corinzi capitolo 15 versetti da 51 a 53 ma semplicemente la liberazione spirituale che è presente in questo libro è in sostanza questa se sai che qualcosa è peccato non sei obbligato a farlo credo che dio stia chiamando questo rimanente oggi la mia personale convinzione è che dobbiamo prendere sul serio questa chiamata a ricevere un quotidiano battesimo di spirito santo a sperimentare un risveglio e una riforma per la potenza dello spirito santo e a sperimentare la piena liberazione che gesù ci offre su tutte le tentazioni gli influssi e le oppressioni di satana la nostra personale esperienza di liberazione da ogni influsso di satana nella vita è un processo che continua nel tempo una pieta e completa liberazione non avviene nel giro di una notte è un'esperienza nella quale dobbiamo crescere diventando sempre più forti gesù ha paragonato questo processo alla formazione del chicco nella spiga in marco capitolo 4 versetto 28 quindi mentre leggi in questo libro della liberazione che il popolo del rimanente sperimenterà e non noti oggi nella tua vita una liberazione così piena non essere scoraggiato lascia che il signore inizi il processo ora e abbi fiducia che egli ti porterà fino alla piena e completa liberazione come paolo assicura in prima testa l'unicesi capitolo 5 versetti 23 24 impara quali sono le armi da usare nella battaglia contro satana e mettile in pratica allora sperimenterai molte più vittorie in ogni area della tua vita a livello spirituale emozionale fisico ovunque io abbia presentato e applicato i principi esposti in questo libro ho visto persone liberate dalle oppressioni di satana molti hanno chiesto se c'era la possibilità di avere questo materiale stampato in modo da poter disporre di un testo da studiare il presente libro è stato scritto per rispondere alle numerose richieste in questo senso ti invito a leggere commenti aperta e spirito di preghiera come fecero gli abitanti di berea con gli insegnamenti dell'apostolo paolo lo puoi leggere in atti al capitolo 17 versetto 11 se saremo in vita al momento del ritorno di gesù il nostro destino eterno sarà dipeso dal fatto se avremo o no cooperato con dio nel raggiungere la completa e definitiva liberazione che il vangelo di gesù cristo offre questo libro è dedicato alla preparazione di quel popolo del rimanente quello che sperimenterà tale liberazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti